Salve, sono Ignazio Morino. Molti di voi si chiederanno l'utilità della chiusura al traffico di via dei fori imperiali. Molti di voi si chiederanno anche l'utilità del mio essere stato eletto a sindaco di Roma. Molti. Tutti. Ebbene, anch'io. Fino ad oggi. Adesso ho capito. Sto per dimostrarvi finalmente un motivo valido per aver adottato questo provvedimento. Se non avessi chiuso via dei fori imperiali, quando mai avrei potuto fare questo? Grazie. 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 Grazie.